e poi dico a tutti bentornati per questa seconda puntata del ciclo di conferenza sugli esopianeti, quindi sui pianeti extrasolari, tenuta dal nostro sottotenente Giancarlo Di Colbertaldo, che già la settimana scorsa ci ha riempito la serata con tutto quello che ci aiuterà appunto a capire la natura e non tanto la genesi, ma come si comportano questi esopianeti e questa sera Giancarlo procederà nell'approfondimento appunto su questo fenomeno che tutto sommato è anche relativamente recente come scoperta, no Giancarlo? Sì, adesso ne parlerò proprio con la data. Ecco, perfetto, va bene, quindi lascio a te la parola e buona conferenza a tutti, ricordo a tutti di tenere il microfono in muto e anche il mio lo chiuderò subito e per qualsiasi domanda utilizzate la chat per chiedere informazioni, delucidazioni e quant'altro. Vai Giancarlo. Va bene, allora buonasera a tutti e questa sera procederò ulteriormente diciamo nelle spiegazioni che riguardano la ricerca di esopianeti, cioè di pianeti extrasolari, di pianeti che fanno parte di altri sistemi diciamo stellari e ce ne sono moltissimi, però diciamo che gli scienziati vorrebbero poter trovare un pianeta simile al nostro. Anticipo subito, la risposta a questa domanda è solo una per adesso, no, non è stato trovato fino adesso nessun pianeta uguale al nostro. Ecco, poi vedremo man mano, ecco, e inizio subito con la prima slide. Ecco, esopianeti. Il primo pianeta extrasolare è stato scoperto nel 1995 intorno a una stella che è una stella di tipo solare e la chiamano gli scienziati, poi vedremo meglio una stella nana gialla, vedremo meglio che cosa vuol dire nana gialla, nana rossa eccetera. Ecco, e attualmente 2022 sono stati scoperti molti pianeti extrasolari, diciamo alcune migliaia, ma di fronte ai cento e oltre miliardi di stelle della nostra galassia, ahimè, è molto poco. E diciamo che statisticamente ci dovrebbero essere cento miliardi di pianeti nella nostra galassia, dei quali oltre dieci miliardi diciamo di tipo terrestre, ma di tipo terrestre non vuol dire che sono uguali alla Terra, vuol dire che sono pianeti non dei giganti gassosi come Giove, Saturno eccetera, no, dei pianeti rocciosi, ma hanno masse diverse, caratteristiche diverse, poi vedremo man mano tutte queste diversità. Ecco, diciamo che sì, ci sono nell'ambito della nostra galassia, ci sono cento miliardi di pianeti stimati, diciamo così, però dobbiamo tenere presente che nell'universo visibile, quello che è accessibile alla nostra strumentazione scientifica, ci sono migliaia di miliardi di galassie e sono costituite da diciamo centinaia di miliardi di pianeti, è una cosa pazzesca quando ci troviamo di fronte a questi numeri. Nella mia ricerca ci occupiamo solo di diciamo pianeti nell'ambito della nostra galassia. Ecco, diciamo che un obiettivo veramente fondamentale e poi ne parleremo soprattutto nell'ultima conferenza che terrò è la ricerca di vita intelligente, perché attualmente ancora non abbiamo capito niente. Vedremo, ripeto, nell'ultima lezione, cioè nella terza, che cosa dicono gli scienziati in merito su questi pianeti che vengono definiti terrestri? C'è una forma di vita intelligente? Punto di domanda. Vedremo successivamente queste cose. Il pianeta, il primo pianeta, esopianeta scoperto nel 1995, vedete qui sotto a sinistra, è stato scoperto da questo complesso di enormi telescopi che si trovano nelle Ande del Cile e sono, vedete qui, quattro enormi telescopi che hanno spetti del diametro di otto metri e poi ci sono dei telescopi, li sto indicando, più piccoli. Ecco, che ce ne sono quattro. Dico, eccolo qui il quarto. Questi telescopi lavorano o singolarmente oppure lavorano tutti insieme, sincronizzati e questo viene chiamato interferometria e questo vuol dire che utilizzando questa tecnica possiamo disporre di, diciamo, un potere risolutivo, cioè la capacità di vedere piccoli dettagli enormemente grande. Andiamo alla successiva. Eccola qua. Allora, diciamo che passiamo a questo punto a come si sono, come si formano i pianeti, come si è formato il nostro sistema solare e come si sono formati gli altri sistemi planetari. Cioè, si ritiene che il modo in cui si sono formati gli esopianeti sia in questo modo simile al modo in cui si sono formati i pianeti del nostro sistema solare. Sarà vero? Ma diciamo di sì, perché ci sono molte informazioni che sono state acquisite e che confermerebbero, diciamo, questo modo di venire in essere dei pianeti non solo intorno al Sole, ma anche intorno ad altre stelle. Un, diciamo, che assumono molta importanza le cosiddette polveri cosmiche. Le polveri cosmiche, di cui tra poco vi farò vedere delle illustrazioni eccezionali, hanno un ruolo fondamentale nelle galassie, queste polveri cosmiche. Ecco, perché oltretutto questi granellini di materiale silicatico, oppure di carbonio, di stati allotropici del carbonio come la grafite, il diamante, il biossido di silicio, sono granellini piccolissimi. E intorno a questi granellini, perbacco, si formano dei mantelli ghiacciati, che sono costituiti da molecole, dalle meno complesse a quelle terribilmente complesse, addirittura ai precursori della vita. Sì, su questi granellini si sono dei mantelli ghiacciati che contengono gli amminoacidi. E gli amminoacidi sono, diciamo, quelle molecole che servono a costruire le proteine, e quindi gli esseri viventi, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, noi quindi osserveremo tra poco queste polveri cosmiche, questa loro chimica altamente evoluta, e ci troveremo di fronte anche al gas, quindi il gas e le polveri, e poi questo materiale che entra nella costituzione dei cosiddetti dischi protoplanetari. Cioè questo materiale di granellini, di polveri, di molecole complesse, di gas, si dispongono intorno alle stelle e formano quello che viene chiamato il disco protoplanetario, dal quale successivamente si assembleranno progressivamente dapprima, diciamo, dei blocchi di roccia che vanno da cento chilometri anche a cinquecento chilometri di dimensione, anche a mille chilometri, e si chiamano planetesimi. I planetesimi sono i per costruire gli embrioni dei pianeti e gli embrioni si assembleranno successivamente e andranno a costituire i pianeti. Ma adesso vediamo in dettaglio questo processo, come si formano i sistemi planetari, diciamo i pianeti. Ecco qui. Prendiamo una galassia vera che potrebbe simulare la nostra galassia. Quella che però può solo essere ricostruita, è vero, con tecniche e super computer. Ma questa che vediamo è una vera galassia che è stata, diciamo così, fotografata, tra virgolette, dal telescopio Hubble, che è in orbita intorno alla Terra da moltissimi anni e si trova a cinquecento chilometri di altezza. Ed è un enorme telescopio che ha uno specchio del diametro di due metri e mezzo circa. Guardiamo questa galassia. Allora, vediamo una regione centrale che ha una struttura a forma di barra e barrata, ha una popolazione stellare rossiccia, giallo-rossiccia, che è costituita da stelle molto anziane, vecchie, tipo le giganti rosse e altro. Sono stelle, una popolazione stellare vecchia. Intorno a questa barra, o dall'estremità della barra, si sviluppano, qui sono un po' confuse, perché è un certo tipo di galassia, si sviluppano le braccia spirale. Lungo le braccia spirale, guardate, polveri, eccole lì, scure. Sono queste linee, diciamo che, e sono intricate. Ed è lì, in quelle polveri che nascono le stelle. Le stelle di varie taglie, da quelle più piccole a quelle medie, come lo è il nostro Sole, a quelle più grandi, le giganti, supergiganti, bianco-azzurre. da queste polveri. Guardate, anche qui, sono oscure. E sono questi granellini piccoli di cui ho accennato prima. Ma oltre alle polveri abbiamo il gas. Le polveri del gas sono miscelati. E vediamo, tra l'altro, sparse, queste regioni rossicce-rosse. Guardate, ce ne sono un po' dappertutto, basta osservare con attenzione. Ne vediamo, scusa, ecco la freccia di Natalia, sì, ne vediamo parecchie. Queste sono delle nubi molto rarefatte di gas idrogeno, soprattutto ionizzato. Ha perso i suoi elettroni. È un gas ad alta temperatura, ionizzato. Ma c'è anche all'interno delle stelle molto massicce che sono venute in essere assieme a stelle di piccola taglia, di media taglia, eccetera. Ma queste stelle massicce, che sono giganti e supergiganti bianco-azzurre, hanno un potere emissivo di radiazione ultravioletta pazzesco. E inoltre i venti di particelle, venti stellari, queste radiazioni e questi flussi di particelle ionizzano il gas idrogeno dal quale queste stelle sono nate unitamente alle polveri e sviluppano e danno nascita a questa bolla rossiccia di idrogeno che emette tipica, ionizzato, che emette tipica radiazione nella lunghezza d'onda dello spettro elettromagnetico rosso. Ecco, queste sono delle enormi bolle di gas ionizzato da parte di stelle massicce che si trovano all'interno. E sono quelle che fanno un po' da padrone, queste stelle massicce, non vedremo tra poco. Benissimo. Andiamo alla successiva. Ecco, adesso prendiamo la nostra galassia. Quella era un po', diciamo, una galassia vera che mimica molto bene la nostra galassia. La nostra galassia, come ho detto anche l'altra volta, è una galassia barrata, anche qui c'è una struttura a barra centrale, le stelle sono disposte enormemente particolari e dando luogo a questa struttura a barra. Vediamo che dall'estremità della barra abbiamo questo braccio importante che si chiama il braccio dello scudo centauro e poi abbiamo un altro braccio che è questo, estremità destra, eccolo qui sotto, che è il braccio di Perseo. Ma qui interno c'è un braccio più esiguo, più magro, diciamo così. Vedete, ecco, che parte, si sviluppa dall'estremità destra della barra e continua a svilupparsi e si chiama braccio del sagittario carena. Allora, a un certo punto di questo braccio sagittario, sto indicando con la freccina, ha una biforcazione e vediamo questa diramazione, eccola, ed è quella che si chiama Sperone di Orione ed è in prossimità, diciamo, di questa diramazione del braccio sagittario carena, si trova il nostro sistema solare. Nella conferenza precedente vi avevo fatto vedere non solo dove si trova il sistema solare nell'ambito della nostra galassia, ma anche dove la nostra galassia si trova nell'ambito dell'universo su grande scala. Allora, qui ho indicato con le frecce due di quelle macchioline rosse che abbiamo visto prima, che le chiameremo nebulose a, diciamo, emissione o a eccitazione, ecco, che sono prodotte appunto da queste stelle di grande massa che emettono molta radiazione ultravioletta, venti di particelle e ionizzano e diciamo, e fanno espandere, ionizzano il gas idrogeno e fanno espandere questo gas ionizzato, espandere nello spazio esterno. Noi adesso ci occuperemo e andiamo a vedere in dettaglio, lasciamo perdere la nebulosa aquila e vediamo questa nebulosa carena, una di quelle bolle di idrogeno ionizzato. E andiamo a vedere che cosa c'è e vedremo come, diciamo, si vengono in essere i dischi protoplanetari intorno alle varie stelle che ci sono e come poi evolvono nel tempo, dando poi, facendo venire in essere i vari pianeti. Allora, passo alla successiva. Eccola qui. Questa è una foto eccezionale che ci è fornita da telescopi di notevole mole, diciamo così, e vediamo che questa regione è enorme. Quindi si misura in anni luce e quindi sono i chilometri, diciamo così. Vediamo che il colore rossiccio è dato dall'idrogeno ionizzato perché all'interno, adesso qui si fa fatica a vedere, ci sono delle stelle molto potenti, che sono delle giganti o supergiganti bianco-azzurre che con la loro radiazione ultravioletta e con il vento di particelle ionizzano e dilatano questo gas idrogeno. Ecco, e quindi abbiamo una bolla rarefatta ad alta temperatura, so, 10.000 gradi, ecco, che si espande. E va a intaccare la nube molecolare o il complesso di nubi molecolari che si trovano all'esterno e che sono ancora fredde e le corrodono e, diciamo, con il fronte d'onda che precede questa espansione della nebulosa a eccitazione, va a, diciamo, comprimere delle disomogeneità che si trovano nella circostante nube molecolare e dà luogo al collasso di, diciamo, di addensamenti di gas e di polveri che poi daranno luogo a delle protostelle e poi, sì, in seguito, a delle stelle vere e proprie. Qui ho messo due numeri, il numero 1 e poi il numero 2. Andiamo a vedere che cosa c'è nel numero 1. L'immagine che segue è stata fornita recentemente dal telescopio James Webb Space Telescope che, come ho detto alla volta precedente, si trova a una distanza di un milione e mezzo di chilometri dal nostro pianeta e si trova in un punto di equilibrio chiamato appunto di Lagrange o Lagrangiano L2 ed è lì che comincia a fornire molti dati riguardanti appunto l'universo. Andiamo a vedere il punto 1. Ecco, guardate questa immagine. Allora, in basso vediamo, perdone che qui basta toccare, ecco, vediamo tutta questa cortina di color marrone. Che cos'è? Polveri, le polveri cosmiche. Queste polveri sono mescolate al gas idrogeno e anche ad altri elementi, ma soprattutto idrogeno. E vediamo che hanno, che non c'è una superficie liscia, è una superficie tormentata, è una superficie tormentata dalla radiazione ultravioletta che proviene, e qui non è, diciamo, non rientra in questa immagine, ma queste stelle potenti stanno al di fuori di questa immagine. Ecco, e con la loro potente radiazione ultravioletta ionizzano il gas idrogeno e, diciamo, suffiano verso l'esterno non solo il gas idrogeno, ma anche le polveri e corrodono queste polveri, diciamo, e danno luogo a queste strutture, come vediamo, vediamo in questo punto, sono delle, diciamo, degli addensamenti e se guardiamo bene ce ne sono tanti di questi addensamenti. Sono proprio questi addensamenti che daranno luogo alla formazione di stelle, perché collasseranno, ci sarà la cosetta energia gravitazionale che si converte in calore, attraverseranno la fase di protostella per poi diventare stelle nel vero senso della parola, quando all'interno le temperature arriveranno a valori tali da far partire le reazioni termonucleari della trasformazione dell'idrogeno in elio. Ecco, questi, diciamo, questi vengono chiamati globuli gassosi evaporanti, vengono chiamati globuli di Bok e sono, diciamo, la fase prima della formazione di una protostella e stella. Vediamo la successiva, che è ancora più evidente. Questa è invece il punto 2 della nebulosa carena, che possiamo tornare, ecco, il punto 2. Adesso abbiamo visto questa zona e vediamo questo punto 2 che è particolarmente interessante. Allora, torniamo qui. Ecco qui, qui vediamo un'immagine un po' più ingrandita e vediamo il punto 2 indicato dalla freccia. Qui c'è qualcosa che, diciamo, non dico di misterioso, ma è una struttura che adesso conosceremo e vedremo esattamente come viene in essere una stella. Ecco, qui vediamo la parte scura, sono sempre le polveri e che sono scolpite dalla bolla, diciamo, ionizzata in espansione e poi assumono delle configurazioni, scusate perché qui basta toccare delle configurazioni particolari che adesso le vediamo più in dettaglio. Qui Eta Carine è una stella, è una superstella, di una massa enorme, che è una supergigante blu potente, responsabile, diciamo, del venire in essere di questa bolla di idrogeno ionizzato e sta per esplodere come supernova. Le supernove sono potenti esplosioni dovute allo stadio finale di stelle di grande massa come la Eta Carine. Ecco, il Sole quando finirà di qui a nove miliardi di anni o meno la sua vita non esploderà come supernova ma avrà una morte lenta e darà luogo a quella che viene denominata una nebulosa planetaria. Vedremo poi magari delle fotografie in merito. Ma andiamo a vedere da vicino il punto 2. Eccolo qua. No, siamo ancora distanti, ma vedete che c'è una struttura triangolare e qui c'è come un baffo orizzontale biancastro. Adesso andiamo a vedere veramente. Ah, un momento. Guardate queste strutture, ecco, che sembrano fuggitive. Sono addensamenti di gas e di polveri. Perché lì, soprattutto nella parte sommitale, si stanno, diciamo, stanno, il materiale sta collassando. Sta collassando perché è anche stimolato dal fronte d'onda della nebulosa eccitazione che si espande. E allora questo gas mescolato alle polveri si concentra e avviene il collasso gravitazionale e arriviamo alla formazione di una protostella. Ma andiamo un po' più avanti. Ecco qua. Allora, vediamo da vicino, torno indietro, questa struttura triangolare. Qui il triangolo è rivolto, diciamo, con la punta verso il basso. Nella immagine che è dettagliata, invece, è rivolto con la punta verso l'alto. Ecco, qui mi riguarda, appunto, l'orientamento delle fotografie. Allora, guardate com'è curiosa questa struttura. Vediamo che ha una parte sommitale che è densa, è un grumo di gas e di polveri. Poi c'è una struttura filamentosa e poi continua con una struttura, diciamo, tormentata. Ma l'attenzione è qui. Perché qui vediamo due getti contrapposti di materiale, gas, polveri, e questa struttura viene chiamata globulo gassoso evaporante, a forma di dito. Dà l'impressione di un dito, oppure di una forma tipo serpente, non lo so. Ma guardiamo l'immagine successiva che io ho messo a punto. Andiamo a vedere che cosa c'è lì dentro. Qui, di fianco, ho messo questa piccola immagine, guardiamola a destra. Allora, vediamo questi due getti, sono, nell'immagine che ricostruisce la realtà interna, vediamo due getti, due getti di materiale, gas in modo particolare. Perché il corpo che sta collassando e che sta dando origine a una protostella è, diciamo, è un corpo caldo, un corpo abbastanza caldo, diciamo così. E vediamo, guardiamo subito destra, che è formato da un disco detto di accrescimento. Cioè, il materiale circostante sta rifornendo, spiraleggiando verso il centro, perché qui c'è una rotazione, spirala, spirala il materiale esterno verso il centro, perché va ad alimentare l'accrescimento della stella. Il materiale spirala e va a nutrire, diciamo così, la sprotostella che si ingigantisce, che cresce sempre di più per quanto riguarda la sua massa. E poi questi due getti contrapposti di materiale, gassoso in particolare, che in parte è anche ionizzato e secondo gli scienziati in parte non lo è, ma c'è un disaccordo in merito. Comunque, questo disco in accrescimento sarà il cosiddetto, diventerà il cosiddetto disco protoplanetario. È un materiale che rimane dalla formazione della stella, perché non tutto va a formare la stella, ma rimane una parte. E a causa della rotazione, dello spiraleggiare, questo materiale forma un disco appiattito, detto disco di accrescimento, che ancora per un po' continua ad alimentare la crescita della protostella, ma nel contempo evolverà verso quello che sarà, quello che viene chiamato il disco protoplanetario. Eccolo qui sotto, lo vediamo che l'evoluzione è in atto, vediamo che la protostella sta per diventare una stella, perché il calore prodotto dal collasso gravitazionale, diciamo che questo collasso gravitazionale si converte in energia gravitazionale, quindi in calore, e la stella, e la protostella sta per diventare stella. Guardate, intorno il disco in accrescimento ha cambiato. Ha cambiato morfologia, è tutto scuro ed è pronto per evolvere nella, alla formazione dei protopianeti, eccetera, che vediamo tra poco. Il disco protoplanetario con al centro la protostella. Io parlo comunque di stelle di massa medio-piccola, non parlo di stelle con massa molto grande. Lasciamoli da una parte, perché il discorso si complica. Allora, vediamo ulteriormente sotto, basta. Abbiamo ancora una protostella che sta per diventare stella, sta per innescarsi, stanno per innescarsi le reazioni termonucleari all'interno. Ecco il disco protoplanetario, che in questo momento è formato da gas e da polveri. Ma andiamo a vedere con una lente, diciamo così, questa sua caratteristica composizione. Allora, passo alla prossima. Ah, un momento. Questa è una scoperta abbastanza recente. Molto tempo fa, non eccessivamente molto tempo fa, e si pensava che i pianeti, in un disco protoplanetario, ecco che io qui ho riportato l'immagine di prima. Che i pianeti, in un disco protoplanetario, avrebbero dovuto formarsi in tempi lunghi, milioni di anni? No, non è più così. Perché hanno scoperto che in questi vivai stellari, che sono quelle nebulose a eccitazione, è vero, idrogeno ionizzato, la bolla in espansione, la superstella, le superstelle all'interno, che generano questa situazione. Hanno scoperto che le stelle di grande massa, che si trovano nel campo, diciamo così, emettono quella loro potente radiazione ultravioletta. E il vento di particelle, protoni, elettroni, particelle alfa, eccetera. Tutta questa radiazione, cosa fa? Invelocemente va a intaccare il disco protoplanetario e soffia via il gas. Allora, i pianeti, se non si formano in fretta, non possono formarsi. In particolare i pianeti gassosi tipo Giove, Saturno, Urano, Nettuno. Perché il gas che lì caratterizza, perché sono pianeti gassosi, gassosoliquiti, eccetera, viene soffiato via. Ma viene soffiato via anche le polveri. Quindi tutti i pianeti, oggi, se concordi nel riterrere, che devono formarsi in fretta. Non nell'arco di milioni di anni, ma molto e molto prima. E questa è una caratteristica, è un passo in avanti nella conoscenza dell'origine e dell'evoluzione di un sistema planetario. Vediamo pure la successiva. ecco qua. Oh, adesso un attimo di attenzione, non vi preoccupate, c'è tanta roba. Questa è una tavola sinottica che io pazientemente ho costruito sulla base di quello che ho studiato. Allora, partiamo dal centro. Qui abbiamo un disco protoplanetario, abbiamo la protostella al centro, più il disco protoplanetario, che è caldo in via di raffreddamento. Questo è molto importante. sta raffreddando. E' in rotazione, ovviamente. E poi vediamo sotto, ho riportato, le due componenti principali, i due costituenti principali del disco protoplanetario, che sono la polvere e il gas. Allora, dal gas in via di raffreddamento, possiamo pensare anche al gas che costituisce i getti contrapposti di materiale gassoso. Questi si raffreddano pian piano, sempre di più, e dal raffreddamento del gas, soprattutto, ripeto, nella regione centrale, che è quella che è stata la più calda, hanno condensano un aggregato di minerali. E' la prima roccia che viene in essere. Aggregato vuol dire roccia. La roccia è costituita da un aggregato di minerali. Allora, vengono prodotti dal raffreddamento del gas nella regione centrale, tre minerali importanti, che si chiamano il corindone, che è un ossido di alluminio, poi la ibonite, che è un ossido di alluminio e calcio, e poi la peroschite, che è un ossido di titanio e calcio. Questi nascono in aggregati. Ecco la mineralogia che esplode, la mineralogia che ha inizio. E hanno inizio le prime rocce aggregati di minerali di questo tipo. Questa è una componente importante del disco protoplanetario. Ma poi abbiamo la polvere di cui ho cenato prima. La polvere nel disco protoplanetario si può presentare in due stati. O è, diciamo, una polvere, e lo sto indicando, non contaminata, una polvere, come dire, che non ha subito nessun processo di riscaldamento e conserva le sue caratteristiche. Sono dei granellini. Piccolissimi gli scienziati dicono che sono grandi come le particelle che costituiscono il fumo delle sigarette. Pazzesto. Allora, sono dei silicati. Sono silicati del tipo olivina, che è un silicato di magnesio. Poi c'è, ci sono gli stati allotropici del carbonio, come la grafite, il diamante, c'è il biossido di silicio, la SiO2. Ci sono vari minerali. E intorno i ghiacci, quelli che ho accennato prima, molecole organiche complesse. C'è il metano, c'è l'acqua, c'è l'ammoniaca. Poi ci sono gli idrocarburi aromatici policiclici. E poi ci sono gli amminoacidi, che sono i costituenti delle proteine. Sono già nello spazio, sono già a disposizione per pianeti che vogliono ospitare, che possono ospitare la vita. E questo è il materiale, diciamo, pulito, che non ha subito processi. E a fianco a questi granelli ci aggiungiamo anche il terzo stato allotropico del carbonio, che si chiama fullerene, che sono delle molecole grosse, che sono formate da 50-60 atomi di carbonio, che sono situati ai vertici di esagoni, di pentagoni, e portano all'interno, perché sono come delle gabbie, e portano all'interno molecole anche complesse, e le trasportano. E anche questi hanno un ruolo particolare per quanto riguarda poi, diciamo, la possibilità dello sviluppo della vita sui pianeti. Ma c'è una frazione della polvere, la sto indicando qui sotto, che è contaminata. Cosa vuol dire contaminata? Vuol dire che ha subito dei, come dire, dei processi di alta energia. Sì, perché il Sole, se vogliamo parlare del nostro sistema solare, o la stella, diciamo, ospite o la stella madre per quanto riguarda gli altri sistemi planetari, a quei primordi queste stelle, compreso il Sole appunto, producevano delle esplosioni pazzesche, chiamate non flare, ma super flare. Oggi abbiamo i flare o brillamenti eiezioni di masse coronali, se ci riferiamo al Sole. Ma in queste stelle, anche il Sole, a quell'epoca i primordiali avevano queste super esplosioni. E queste super esplosioni cosa hanno fatto? Hanno cucinato parte della polvere e l'hanno, come dire, contaminata. Allora, questa, la polvere primordiale, si è trasformata in due composti, che sono le condrule e la forsterite. Le condrule sono delle piccole sferine di vetro e sono fatte di materiali silicatico, tipo il pirosseno, tipo, diciamo, l'olivina, che sono silicati di ferro e di magnesio. Sono delle sferule, condrule, materiale condritico, condrule. E poi questa forsterite, che è un minerale, anche questo, qui c'è un cristallo verde, che sta a indicare a questo materiale, questo minerale, che è un silicato di magnesio, solo di magnesio. Allora, ci troviamo di fronte, quindi, a questa composizione del disco protoplanetario. Tutti questi, diciamo, minerali, tutte queste cose di cui vi ho illustrato, vanno alla fine a... si aggregano, si aggregano sempre di più, formano dei corpi sempre più grandi e finalmente formano quelli che vengono chiamati, lo sto indicando, planetesimi. La fascia degli asteroidi è popolata da planetesimi, che sono i residui, come ho detto la volta precedente. Allora, tutto nel disco protoplanetario, a un certo punto, si formano un'infinità di planetesimi, che sono il risultato della aggregazione di queste polveri, che sono o contaminate o non contaminate, ecco, e poi questi aggregati di minerali che si sono condensati dal gas. Vediamo la successiva. Ecco, qui in questo, diciamo, in questa illustrazione, in questa ricostruzione, ecco i planetesimi che si sono formati, i quali cominciano anche a collidere tra di loro. Ah, ma ci sono due tipi di collisioni. C'è la collisione distruttiva, che è feroce, violenta, ma ci sono le collisioni costruttive, che hanno, diciamo, che questi corpi si aggregano in maniera lenta e si appiccicano tra di loro. Guardate qui sotto a sinistra, ecco che i granelli cominciano a, diciamo, assemblarsi. E questo assemblaggio continua lungo una scala crescente. E possiamo avere i planetesimi. Eccone qui uno. E insomma, possiamo avere planetesimi sui cento chilometri o qualche cosa di più, che non sperimentano loro stessi riscaldamento. E quindi sono incontaminati. i planetesimi contengono il materiale originale, originale, del disco protoplanetario, come primo illustrato. Ma ci sono dei planetesimi, caspita, che crescono, che vanno a cinquecento chilometri di diametro, a mille chilometri di diametro. E a questo punto questi planetesimi diventano come dei pianeti, caspita. Guardate qui a destra. Questo è un planetesimo, questa è una ricostruzione, è un planetesimo addirittura differenziato. Cosa vuol dire differenziato? Vuol dire che ha sperimentato un potente calore interno dovuto al decadimento degli isotopi radioattivi che lo costituiscono, tipo l'alluminio che decade in magnesio ed emette energia. E questa energia accende, diciamo così, il planetesimo. Allora si forma una crosta esterna, si forma un mantello, tipo come la Terra, e si forma un nucleo interno metallico. Quindi c'è tutta una gamma di planetesimi che poi tutti questi planetesimi con queste caratteristiche si sono ulteriormente assemblati e hanno cominciato a costruire gli embrioni planetari e poi questi embrioni a loro volta si sono aggregati anch'essi e siamo arrivati ai protopianeti pianeti. Quindi c'è tutto un processo che attualmente gli scienziati sono concordi che riguarda sia la formazione dei nostri pianeti del nostro sistema solare ma anche degli altri sistemi planetari. Sarà vero al cento per cento? Beh, mettiamoci sempre un punto interrogativo. Vediamo la successiva. Ecco, in questa ricostruzione, diciamo così, vediamo un embrione. Ecco tutti i planetesimi, vedete tutti questi puntini luminosi, sono i vari planetesimi con le loro varie dimensioni che scontinuano ad aggregarsi e accrescono un corpo che diventa sempre più grande fino a diventare un vero e proprio pianeta. Vediamo questo. Questo ovviamente è un disco protoplanetario e qui al centro c'è la stella ormai diventata non più protostella ma stella. Vediamo la successiva. Ecco, questa non è una ricostruzione. Questa è una vera immagine ottenuta con radiotelescopi che vediamo qui a sinistra, il VLA del Nuovo Messico e l'ALMA nel deserto di Atacama. Questi radiotelescopi vedono in tante lunghezze l'onda radio, ma in questo caso, che riguarda la ricerca di pianeti, di pianeti extrasolari, usano le microonde. Per esempio, in questo caso abbiamo le microonde che vanno da un millimetro a un metro come lunghezza d'onda e hanno usato qui, diciamo, delle microonde da un millimetro a sette millimetri e hanno rilevato questa immagine. Allora, queste tre immagini è sempre la stessa cosa. Allora, vediamo una prima immagine fornita dall'ALMA, che è questo qui, quello del Cile, deserto di Atacama, e vediamo la stella centrale e tutto intorno il disco protoplanetario. Questa è un'immagine vera, ne esiste. E vediamo anche che presenta delle lacune, come dicono loro, delle gap. Qui è un'immagine a più alta risoluzione e vediamo queste gap. Queste lacune stanno a testimoniare che ci sono dentro dei protopianeti che continuano ad accrescere materiale dall'esterno e ripuliscono, diciamo così, queste zone chiamate lacune o gap. Cioè, il fatto che esistano queste lacune vuol dire che dentro c'è un pianeta che sta accrescendo materiale, lo sta portando via, lo sta portando verso di sé per accrescersi. E vediamo, scusate, e vediamo in particolare questo, vedete questa parte centrale? Eccola qui. Qui è una, diciamo, immagine a più alta risoluzione che è stata fatta dal Very Large Array, che è questo qua, il radiotelescopio. E vediamo la stella e questa qui al centro e qui vediamo un camp, un grumo, ed è un pianeta in fase di formazione. Come hanno fatto? Dio solo lo sa, ma comunque è un grande passo in avanti. Comunque ci rendiamo conto che i pianeti non è che li vediamo belli lì con le loro atmosfere, con le loro caratteristiche superficiali. Adesso per poco vi dirò come fanno a individuarli. Comunque questa è un grande, diciamo, passo in avanti. Vediamo poi la successiva. Questa è un'altra immagine, di un altro ancora, di un altro sistema planetario in fase di formazione. Vediamo, qui vediamo cos'è questa cosa scura. Lo vedremo poi in dettaglio tra poco. Per vedere il disco protoplanetario bene e per vedere un pianeta che si sta formando, gli astrofisici, con una tecnica chiamata coronografo, hanno occultato la forte luce della stella centrale. Allora eliminiamo quella luce lì e possiamo vedere che cosa c'è vicino. E questa è una tecnica che attualmente, e poi ne parlerò, viene particolarmente usata. La tecnica del coronografo, cioè creare un'eclisse artificiale per bloccare la potente luce della stella e guardare nelle mediate vicinanti se si vede un punto luminoso che è un pianeta e controllare che cosa fa, come si muove, eccetera. Questa è stata fatta dal Very Large Telescope, che ho accennato anche prima, ecco, che si trova nelle Ande del Cile. Ecco, non si può entrare in dettagli perché... Allora, guardiamo, questo è quello che si dice qui. L'unicità del nostro sistema solare, con, nell'ambito suo, il pianeta Terra, diventa evidente per la prima volta quando si è iniziato a scoprire pianeti extrasolari orbitanti altre stelle. 1995, come ho detto prima, c'è stato l'inizio. Perché tutti, e vedremo poi soprattutto nella terza conferenza, tutti quelli che vediamo intorno ad altre stelle, che riusciamo a costruire la loro presenza, diciamo così, nulla a che vedere con il nostro. Il nostro è speciale, peculiare e abbiamo un pianeta Terra che è speciale, peculiare. E qui vedrete che io parlerò di varie stelle e di vari pianeti intorno a queste stelle, però, una Terra 2.0? Attualmente la risposta è no, non c'è. Però, attenzione, ma che cos'è che abbiamo esplorato nell'ambito della galassia per dare un'affermazione di questo tipo? Ma abbiamo esplorato molto poco, io poi farò vedere delle delle illustrazioni, ma sono piccoli, diciamo, piccole aree della galassia in cui abbiamo esplorato un campione di stelle con pianeti. La galassia ha oltre 200 miliardi di stelle, ma anche di più. Prima di dare, diciamo che adesso abbiamo queste informazioni, però una Terra 2.0, attualmente non è ancora, diciamo, non c'è nessuna informazione che ci dica che possa esistere. Vediamo la successiva. Ah sì, qui c'è un alt. Devo andare oltre qui perché se no ci perdiamo. Ecco qua, previsto, alt, fine, benissimo. Allora, vediamo adesso le tecniche di ricerca planetaria extrasolare. Ahimè, non sono sempre facili, però ho delle belle illustrazioni che aiutano a capire. Innanzitutto c'è la tecnica del transito. Allora, noi, il telescopio vede una stella e a un certo punto vede che la sua luminosità ha un leggerissimo calo. E questo fenomeno può scompare e poi riappare e poi scompare. Allora è un pianeta che gli passa davanti, che gli gira dietro e torna a passare davanti. Transito, transita. E da questo loro possono dedurre che razza di pianeta è, che massa ha, qual è la sua orbita e altre caratteristiche del pianeta. Certo, insomma, sono informazioni molto ancora precise, però insomma è un bel passo in avanti. Oltre al transito c'è l'oscillazione. Allora noi vediamo la stella. Questa stella non lo vediamo niente intorno, ma la stella cosa fa? Si allontana, si avvicina, ma di poco oscilla. Allora c'è una massa che gli sta, che gli gira intorno ed è un pianeta e possono determinare la massa del pianeta che dà luogo all'oscillazione della stella madre intorno alla quale lui gira. E via altre informazioni. Il lensing gravitazionale lo lascio per ultimo. ecco. E il coronografo che vi ho accennato prima, cioè immagini dirette, proprio immagini, è vero senso la parola, finalmente di pianeti, però ecco le loro caratteristiche, ma non solo di pianeti giganti e gasosi come Giove e Saturno, ma anche di pianeti molto più piccoli, diciamo simili alla Terra. Allora diamo un'occhiata al transito in maniera un po' più che con una illustrazione che aiuta a capire meglio. Si chiama fotometria. Ci sono telescopi chiamati fotometri. Fotometria vuol dire analizzare l'intensità della luce della stella intorno alla quale si pensa che ci siano dei pianeti. Ecco. Allora infatti misurazione dell'intensità stellare. E questo è il transito. Qui sotto c'è uno schema, un disegno, che fa vedere la stella ed ecco i transiti. Il pianeta o i pianeti ci passano davanti. Non li vediamo, ma qui perché è il disegno ed è illustrato il pianeta. Ma nella realtà non si vede niente. Si vede soltanto un calo improvviso della luminosità della stella. Dicono, è come un moscerino che passa davanti ai fari di un'automobile. Ma quel moscerino riesce, diciamo, a far diminuire anche di pochissimo, ma viene rilevato la luce del fanale e che è in questo caso della stella. Il transito del pianeta. Poi vediamo quell'altro. Il corolografo. Ecco. Quindi immagini finalmente di pianeti. Credo che il telescopio web ci darà una mano in questo. Vediamo che la stella viene occultata da una, facendo un eclipse artificiale, viene proprio mascherata e si può vedere nelle sue vicinanze la presenza, per esempio, di un pianeta o anche più di un pianeta. Ecco. Quindi eliminare la luce della stella e vedere se nelle sue immediate vicinanze c'è un corpo che si muove, che poi scompare dietro, che poi riappare, eccetera, eccetera. Ma la cosa più complicata è questa. Cerco di spiegarla. Qui c'è la relatività di Einstein. Questa è una super tecnica attuale che viene utilizzata da telescopi. Pensate che non solo vanno alla ricerca di pianeti intorno alle stelle, ma c'è un grosso enigma che è venuto fuori. Hanno trovato che ci sono pianeti senza la stella madre. Ma come mai questa cosa? È incredibile, impossibile. E invece sì. Si chiamano pianeti vaganti, nello spazio, nell'ambito della galassia. E non sanno ancora bene quali sono le loro caratteristiche. Non si sa ancora bene come diavolo hanno abbandonato il loro sistema, il sistema planetario di cui facevano parte. Adesso con la tecnica delle lenti gravitazionali probabilmente sapremo qualcosa di più. Allora, qui c'entra la relatività di Einstein. Una massa nello spazio deforma lo spazio. Il sole nello spazio deforma lo spazio. Allora, se ci sono dei raggi luminosi che provengono da dietro il sole molto lontani, arrivando in prossimità del sole, incontrano la curvatura dello spazio e deviano dal loro percorso, focalizzandosi sull'osservatore. Qui vediamo una stella distante, che la chiamiamo sorgente, una sorgente di luce. Ma davanti a questa stella se ne trova un'altra, ed è quella che viene chiamata lente. Allora, la stella lente ha la capacità di amplificare la luce della stella sorgente, producendo un anello luminoso chiamato anello di Einstein. Allora, con questa tecnica noi abbiamo una potenza, diciamo, per vedere la luminosità di questa stella distante e vedere questa luminosità come si comporta nel tempo. A un certo punto, qui abbiamo un allineamento sorgente-lente, ma una delle due stelle si sposta. Allora sono disallineate e allora l'amplificazione della luce della sorgente viene meno. Ma se c'è un pianeta intorno alla stella lente, guarda caso, si trova allineato con la sorgente e determina un'altra amplificazione molto più debole. Eccola qui. Questa è la punta dell'amplificazione massima, che con il disalineamento in atto cala sempre di più, ma c'è un pianeta che si interpone e esattamente si allinea con la stella sorgente. E dà luogo a una piccola amplificazione. C'è un pianeta. È molto complicata questa cosa, ma insomma, andiamo qui, gli scienziati lo scherzano. Però voglio dire, sono tutte tecniche che attualmente ci permettono di scoprire pianeti intorno ad altre stelle. Ecco, però sottolineo il fatto che noi questi pianeti facciamo ancora fatica a vederli. James Webb Space Telescope probabilmente li vedrà, ma è molto complicato ancora. Siamo ancora molto indietro. Vediamo pure la successiva. Ecco, guardate qui in questa ricostruzione della galassia, vediamo, questa l'avevo già fatta vedere la volta precedente, vediamo, qui c'è il sistema solare, ecco, e questo è l'area, diciamo, di esplorazione da parte di una serie di telescopi per individuare pianeti extrasolari. Ma rispetto alle dimensioni della galassia è poco niente, è un piccolo campione. Ecco, sono 900 parsec, sono 3.000 anni luce che si sviluppa questa area. È pochissimo la galassia, guardate il diametro che ha oltre 100.000 anni luce, eh? Quindi vediamo, ecco qui, vediamo il sole, qui c'è un ingrandimento, e vediamo 3.000 anni luce. E questa è l'area di esplorazione degli esofianetti. Poi ce ne sono anche qualche altra, eh? Gli esofianetti con la tecnica, per esempio, della fotometria, transiti, transiti. Questo transito ha avuto e sta avendo un ruolo molto molto importante. Ecco, possiamo vedere ancora questa. Ecco, ecco, vediamo qua. Questo è già un altro punto importante di cui parlerò nella prossima conferenza, con delle illustrazioni. La maggior parte degli esopianeti che sono stati scoperti si trovano tutti a ridosso della loro stella, alterbacco. Non hanno la distribuzione dei pianeti del nostro sistema solare. Va bene, pianeta Mercurio è vicino al sole, ma sono 58 milioni di chilometri. Ma i pianeti di queste stelle sono molto all'interno dell'orbita, diciamo, della distanza di Mercurio dal sole, che è 58 milioni di chilometri. Sono quasi addosso e quindi hanno, diciamo, rivoluiscono intorno alla loro stella e non in un anno 365 giorni, ma in ore o in giorni. E anche questo è un mistero. E anche questo ci dice che il nostro sistema planetario è speciale e peculiare. Quindi, infatti, completano le loro orbite nel giro di giorni o addirittura di poche ore. E vedremo poi delle ottime ricostruzioni. Sono quelle stelle nane rosse di cui parlerò. Ecco, e quindi è molto difficile trovare pianeti lontani dalle loro stelle. Giove è molto lontano dal sole. E' vero, sono circa, diciamo, 700, quasi 800 milioni di chilometri. Qui sono addosso, e questa è un'altra delle caratteristiche degli esopianeti. E poi ce ne sono delle altre. Ecco, vediamo anche la successiva. Ecco, qui abbiamo una missione compiuta da un telescopio chiamato Keplero, ecco, spaziale, ovviamente, che dai 3.000 anni luce di distanza ha potuto andare molto più distante 20.000 anni luce di distanza. E qui, purtroppo, tecnica delle microlenti gravitazionali. Qui, insomma, c'è alta tecnologia e vabbè. Comunque, voglio dire, in sostanza, sappiamo ancora molto poco. La galassia è grande, eh? Dovremmo esaminare campioni molto più vasti di stelle circondate da pianeti. E comunque le ricerche sono in corso e ci sono sotto, diciamo, sott'occhio, centinaia di migliaia di stelle, eh? Adesso non posso entrare a spiegare i telescopi come sono fatti e i loro compiti, eccetera. Vediamo, ecco, vedete, qui sotto, ecco, l'obiettivo particolare della tecnica microlensing è quello di chiarire uno dei misteri più affascinanti dell'universo. L'esistenza di pianeti vaganti. E pare che questi pianeti vaganti possono avere una, diciamo, superficie con una temperatura ottima per ospitare acqua liquida. E chi lo sa, anche la vita. Ma, scusa, l'energia che proviene dalla stella dov'è? No, non c'è. È l'atmosfera che hanno. Perché pare che questi planemos, come vengono chiamati, questi pianeti vaganti abbiano un'atmosfera di idrogeno. L'idrogeno è uno dei più potenti, diciamo, gas serra che noi conosciamo. Ed è quello che riesce a mantenere, come dire, un clima stabile, con una temperatura ok per quanto riguarda, per esempio, la presenza di acqua allo stato liquido. Acqua liquida vuol dire vita. Vediamo la precedente, la successiva. Velocemente qui. Bisogna dare qualche informazione veloce sulle stelle. Guardate, in questa tavola è molto semplice. Abbiamo una stella rossa, una stella gialla, una stella azzurrina, una stella bianca. Allora, i colori delle stelle sono sinonimi di temperatura. Infatti, le stelle vengono classificate, adesso non entriamo in questo, è molto complicata la cosa. Diagramma Erzung, Rassel, eccetera. Le stelle sono classificate in base al loro colore, alla loro temperatura e in base alla loro luminosità. Le stelle rossicce sono a bassa temperatura. Quanto? 4.000 gradi? Sì, più o meno, diciamo. Ma ci sono le stelle azzurre che hanno una temperatura enorme, 50.000, 30.000 gradi sono le giganti e supergiganti bianco-azzurre. Hanno il massimo di emissione nel blu ultravioletto. Mentre le stelle rossicce hanno il massimo di emissione nello spettro elettromagnetico, nel rosso infrarosso. Poi c'è una immagine della nostra galassia che fa impressione. Ve la faccio vedere tra poco. E poi è così. Quindi, il colore delle stelle è indice di temperatura. Il Sole è una stella gialla. Eccolo qui sto indicando, una nanna gialla. Nanna gialla, nanna rossa, eccetera. Il nostro Sole ha una temperatura fotosferica di 6.000 gradi. Poi all'interno chiaro che aumenta, eccetera. Ma guardiamo la successiva. Ecco, qui non guardiamo adesso tutte le cose difficili, lasciamo perdere e vediamo questo allineamento delle varie dimensioni delle stelle. Vediamo il Sole. Nanna gialla, G, temperatura circa 6.000 gradi, fotosferica. Oltre al Sole, se procediamo a sinistra, abbiamo le nane rosse. Ah, queste nane rosse. Ne parlerò. E poi addirittura, no, scusate, dunque la nana gialla, la nana arancione, un po' più fredda del Sole, e oltre a più fredda del Sole sono le nane rosse, piccole, molto piccole stelle, ma molto turbolente. Poi abbiamo le stelle più grandi, come le classe spettrale A, le B e la O. Queste due ultime sono le giganti e supergiganti bianco-azzurre, potentissime di cui ho parlato prima, a proposito delle nebulose a eccitazione o a emissione, eccetera. Va bene. Vediamo pure la successiva. ecco, qui guardiamo ancora queste dimensioni. Questo è il Sole, quindi nanna gialla, temperatura sui 6.000 gradi circa. Questa è la nanna arancione, più fredda del Sole, 4.500 gradi, ed ha un colore arancione sul rossiccio. Poi abbiamo le nane rosse, ancora più piccole, eccole qua, circa 2.800 gradi, e sono queste che sono circondate da un sacco di pianeti, ma sono stelle cattive e turbolente. Quindi ospitare la vita su quei pianeti sarà molto difficile. Ecco, poi abbiamo addirittura le substelle, che non sono stelle, ma non sono neanche pianeti, e si chiamano le LLT nanebrune, ma lasciamo perdere. Così, giusto per avere un'occhiata veloce. Ecco, poi non so se qui adesso posso perdere. Ecco, invece arriviamo qua. Allora, ogni stella, compresa ovviamente il Sole e le altre stelle, hanno, diciamo, presentano quella che viene chiamata la zona abitabile. Allora, vediamo, il Sole è una nana gialla, ecco, che ha la sua temperatura tipica di 6.000 gradi fotosferica. Qui vediamo il pianeta Mercurio, il pianeta Venere, la Terra, e qui vediamo il pianeta Marte. Ecco, poi ci saranno i giganti, eccetera, eccetera, scusate, ma qui come si trova. Ecco. Allora, a 150 milioni di chilometri dal Sole, ecco, sto indicando, più o meno siamo qua, e questo 150 milioni di chilometri è una distanza magica, perché il pianeta nostro che si trova a quella distanza può avere una temperatura, diciamo, sulla sua crosta esterna, tale da poter, diciamo, ospitare acqua allo stato liquido. Questa, diciamo che questa caratteristica viene chiamata zona di abitabilità, zona, sì, abitabile. Ogni stella, a seconda della sua energia che emette, ha una zona abitabile, che si trova a una distanza, diciamo, dalla stella caratteristica, perché se la stella ha poca energia, la zona abitabile è molto più vicina per avere quelle caratteristiche, per avere l'acqua liquida. Ma se la stella, come qui in alto, è molto potente, il raggio della zona abitabile è molto più grande, perché deve stare il pianeta a una distanza molto maggiore per avere quella temperatura di 15 o 20 gradi o meno che quella, o anche meno, che permette all'acqua di essere allo stato liquido. Quindi la zona abitabile è già, diciamo, una caratteristica eccezionale che ci permette di capire se il pianeta può ospitare o no la vita. Ma la zona abitabile non è tutto, perché un pianeta può trovarsi nella zona abitabile, ma avere caratteristiche sue che non permettono all'acqua di essere allo stato liquido. E poi il pianeta deve avere un'atmosfera ok, diciamo così, con una pressione adeguata di un'atmosfera o bar che permette all'acqua di essere allo stato liquido a partire dai 0 gradi fino ai 100 gradi a livello del mare. Ma ci sono poi altre caratteristiche che il pianeta deve avere. Non basta che si trovi nella zona abitabile, come si pensava una volta, ma non basta proprio. E bisogna capire anche come è fatto il pianeta dentro. Noi abbiamo la nostra Terra, è un pianeta dalla geologia dinamica, cioè la tetonica delle placche, la deriva dei continenti, le placche che man mano si spostano e poi si ricongiungono a formare i supercontinenti, vedi Pangea, Rodiglia del passato, eccetera. E queste sono caratteristiche. E poi l'atmosfera composta di azoto, di ossigeno, è il nostro sistema solare peculiare ed è peculiare il pianeta Terra che si trova all'interno. E la nostra è una delle tante possibili forme di vita che si trovano oppure presupposte da un tipo di ambiente. La ripetizione del quale fuori non la troviamo e probabilmente non la troveremo mai. Ma altre forme di vita completamente differenti, eccetera, eccetera, eccetera. Mi approssimo alla conclusione. Ah ecco, guardate, anche qui ci sono delle considerazioni, caspita, che non scherzano, eh. Qui vediamo una stella nana gialla, è vero come il Sole, e questa è la zona di abitabilità. Quindi la Terra si trova più o meno in questo punto, nella parte di mezzeria. Poi c'è una nana rossa, stella piccola, come abbiamo visto prima. Ovviamente la zona abitabile è molto più vicina perché emette meno energia, ok? Per avere quelle, quei parametri perché l'acqua si possa trovare allo stato liquido sul pianeta che gli gira intorno. No, scusate, questa è la nana arancione, ma comunque il discorso è sempre quello. E la nana rossa, guardate, come la zona abitabile è vicinissima. Già questo ci dice che i pianeti che sono fuori, ma non possiamo paragonarli al nostro sistema solare, ma ci sono delle caratteristiche completamente diverse che non riguardano solo i pianeti, ma la stella intorno alla quale essi si muovono. Le stelle, che tipo di stelle? Quanta energia emettono queste stelle? Sono calme? Sono turbulente? E i pianeti come sono fatti? Hanno un'atmosfera? Hanno una pressione corretta? Insomma, sono pazzesca, eh? Guardate, qui vediamo che la stella nana gialla, il Sole, emette in sostanza poca energia, pochi raggi X. Ma una nana arancione emette già venticinque volte l'intensità dei raggi X emessi dal Sole, pericolosi. Ma una nana rossa addirittura quattrocento volte. È una stella turbolenta. E ci sono tanti pianeti anche nella sua zona abitabile. Ma come fa a poter venire in essere delle forme di vita, quando queste stelle sono terribili, che emettono queste potenti radiazioni che distruggono la chimica organica complessa che porta alla vita. Ma poi c'è un altro fatto. Il nostro Sole, dieci miliardi di anni è la sua vita. La vita sul nostro pianeta si è sviluppata, diciamo, in un bel po', in quasi cinque miliardi di anni, per arrivare all'ultimo, al genere umano. Ma ci sono i pianeti intorno alle nane arancione che vivono 40 milioni di anni. E i pianeti che si trovano intorno alle nane rosse vivono, le nane rosse e i pianeti vivono per 100 miliardi di anni. Allora se pensiamo a tecnologie che si sono evolute, hanno potuto evolversi, sperimentare perfezionamenti sempre di più in questi tempi lunghissimi. E qui vediamo che andiamo fuori completamente da quello che noi conosciamo sul nostro pianeta, i tempi del nostro pianeta, geologici e della vita, eccetera. E infine abbiamo ancora questo qui. E concludo con questo. Guardate questa immagine, fa paura. La Via Lattea penso che l'avete vista tutti. La Via Lattea e le stelle di primo piano della Via Lattea rappresentano il fatto che noi ci troviamo all'interno di una galassia che è fatta di 100 mila, 200 mila stelle. Ma queste stelle, come dicevo prima, non hanno tutte la stessa massa. Ci sono le stelle di grande massa che rappresentano una percentuale piuttosto bassa. Ma ci sono stelle di massa intermedia, come il Sole per esempio, che rappresentano una distribuzione un po' più abbondante. Ci sono poi le stelle arancioni, che ho fatto vedere poco fa, che hanno una distribuzione ulteriormente più abbondante. Ma le nane rosse hanno una distribuzione pazzesca. Quello che vediamo qui è un'immagine nell'infrarosso, che è stata ripresa da satelliti, adesso non mi ricordo quali, statunitese, eccetera. E nell'infrarosso. Infrarosso, al confine tra rosso, abbiamo appunto l'infrarosso. Allora, queste nane rosse sono stelle fredde, diciamo così, sui 3000 gradi, eccetera. La loro massima intensità, che si chiama lunghezza d'onda effettiva, viene emessa il loro massimo nell'infrarosso. Al confine tra rosso e infrarosso, ma nell'infrarosso. Qui vediamo tutte le nane rosse, ma ci sono anche le nane arancioni. E ce ne sono un'infinità. Allora, se noi pensiamo che intorno a queste stelle ci sono sistemi planetari, ma analizzando un piccolo campione come abbiamo fatto adesso, sappiamo tutto? No, impossibile. Non è detto che quel piccolo campione, quelle cose che abbiamo visto, si possono ripetere in queste, che hanno detto solo 500.000 stelle. Qui dentro, 500.000. E sono soltanto una parte delle stelle della galassia. Pazzesco. Quindi voglio dire, siamo ancora molto indietro. Molto indietro, però adesso con il grande telescopio, Jeb's Web Space Telescope, potremmo avere delle informazioni ancora più precise. ecco. Io, Paolo, avrei concluso, avrei concluso questa parte. Sì? Ok. Benissimo. Senti, ci hai fatto vedere delle cose incredibili questa sera. Sì, guarda, qui ti perdi, eh? Eh, veramente. Cioè, ti rendi conto, ma questo non è l'universo a grande scala. Questo è la nostra galassia. Ma la nostra mente non può concepire quello che vi ho fatto vedere la volta precedente, cioè i filamenti, diciamo, di galassia. Certo, certo. I luoti, eccetera. È una roba pazzesca. Questo è l'universo su grande scala e questo è l'universo sulla scala, non so come dire, è un piccolo. Sì, chiamo ancora piccola scala, tutto sommato. Come facciamo a trovare un sistema planetario che una Terra 2.0? Guardate solo qui. Sì, buonanotte. Buonanotte. Certo. Impensabile. Però poi, guardate, all'ultimo, nella terza, io ho raccolto, ho raccolto pazientemente nei decenni di studio quello che gli scienziati hanno detto. Hanno detto sul genere umano. Chi siamo? Ah, guardi, ci sono anche delle considerazioni della professoressa Margherita. C'è un piacere di conoscere. E poi altri scienziati. C'è un disorientamento, eh? Diciamo che la teoria di Wegener, che vede l'obiettivo finale, il genere umano, è stato completamente rimosso. Non esiste nessuna continuità. Chi siamo? Ecco, vedrete che cosa dicono. Veramente si rimane sballorditi. Ma sballorditi perché capiamo che per conoscere dobbiamo indagare ulteriormente, abbandonare l'antropocentrismo. Noi siamo qui su questa Terra, ma questo noi è un punto interrogativo. Va bene, ne parlerò. Sì, già ci hai sballordito questa sera. Siamo tutti qui attoniti. Non ho ricevuto, non ho ricevuto neanche una domanda. Sono tutti lì che non sappiamo cosa dire. Figurati la settimana prossima quando ci racconti, appunto... Quello, guardate, è quello di un interesse eccezionale, perché ci sono diciamo scienziati della NASA e scienziati delle più importanti università che ci sono su questo pianeta, eccetera, che hanno formulato delle ipotesi. E purtroppo devo anticipare che quasi tutti... Mettiamola su ipotesi, eh? Sono concordi che il nostro pianeta diventerà invidibile, sia per cause naturali, sia purtroppo per l'umanità. Questo guarda l'ha detto anche la Walt Disney, la Pixar esattamente, con un cartone alimato che ha fatto circa, ma meno di dieci anni fa, dove appunto facevano vedere questo mondo in cui c'erano questi, sulla Terra, solo, esclusivamente, robottini che accumulavano immondizia e gli esseri umani vivevano, vivono, vivranno nello spazio. Ecco, sì, 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 sì. Perché adesso se noi prendiamo in considerazione, diciamo, le cause naturali, guardiamo il Sole, perché io stasera purtroppo non ho fatto in tempo a dire tante cose, o può tagliare moltissimo. Noi, anche per quanto riguarda gli altri pianeti, per ospitare forme di vita, non di tipo sempre, diciamo, ma di tipo complesso, fino a intelligenza, eccetera, il pianeta deve essere protetto dalla sua stella, perché altrimenti i raggi X, i raggi gamma, le particelle di energia, protoni, elettroni, eccetera, distruggeranno immediatamente qualsiasi forma di vita. Noi siamo protetti dal campo magnetico, ecco, perché anche se altri pianeti possono ospitare la vita, in teoria dovrebbero essere protetti da campi magnetici. Sarà così punto di domanda. Cioè il nostro campo magnetico subisce gli umori del Sole, costantemente. Il Sole cosa fa? Emette un sacco di energia quando ci sono le esplosioni chiamate FLIR, grandi esplosioni o eiezioni di masse coronali, vengono sparate nel sistema solare a 360 gradi un sacco di questa energia. E il nostro pianeta, il campo magnetico del nostro pianeta, che è come una gabbia che lo avvolge di allungata coda magnetica, subisce questa ripercussione, si deforma e ci possono essere delle situazioni in cui c'è un filtraggio della potente radiazione solare. Abbiamo le fasce di Van Allen, le fasce di Van Allen che ci proteggono perché sono riempite di questo plasma solare, lo tengono lì ingabbiato, ma però ogni tanto entra soprattutto dalle cuspidi del campo magnetico. Io non so Paolo, io ho una bellissima immagine, posso farla vedere? Fala vedere, certo che sì. Perché è difficile parlare senza avere un'immagine. No, no, falla vedere quell'immagine, l'immagine di ricordare quale sia l'immagine delle fasce che vuoi far vedere. Ecco, dove ho messo Alt, eccolo qua. Partiamo da questa. Sì. Allora porto qua. Campo magnetico. Io ho scritto questo. Protegge l'atmosfera della Terra dal vento solare e favorisce lo sviluppo della vita sul nostro pianeta. Gli altri pianeti? Punto di odore. Ah, certo. E quindi interazione tra il vento solare e il campo geomagnetico. Geo vuol dire Terra e il campo magnetico terrestre. Andiamo a vedere una prima. Ecco, vediamo. È un po' complicato. Allora, è uno schema. Ecco. Allora, qui vediamo la Terra in questa posizione, la Terra. Intorno alla Terra c'è la plasmasfera, le fasce di Van Halen. La Terra è protetta dalle fasce di Van Halen. Queste ricevono le ripercussioni dell'umore del sol. Poi vediamo. In rosso sono indicate le linee di forza del campo magnetico. Queste linee di forza sono costantemente deformate dal vento solare, che è un plasma con campo magnetico. Un momento, perché qui si sposta come... Ecco. Queste linee di ante, che hanno direzione, diciamo, nord-sud, e sono le linee di forza del vento solare, che procedono da sinistra verso destra. Quelle rosse, invece, sono quelle del campo magnetico terrestre. Qui poi abbiamo la magnetopausa. Ecco, diciamo che il vento solare spinge il campo magnetico anteriormente e lo allunga posteriormente. Quindi abbiamo occhielli magnetiche nella parte giorno e abbiamo lobi magnetiche nella parte notte, o voda magnetica. Diciamo che il campo magnetico solare o vento solare arriva contro il nostro pianeta. Inizialmente si genera un fronte d'onda, Boshock, un fronte d'onda. Il fronte d'onda avverte la presenza del nostro campo magnetico. Sì. E a quel punto penetra e va a colpire gli occhielli magnetici anteriori del nostro pianeta, del campo magnetico. E li spacca, rompe, rompe gli occhielli magnetici e si salda ai monconi. E ogni moncone viene portato indietro, nella coda magnetica. E da dietro entrerà nel campo magnetico terrestre. Entrerà via, adesso non voglio dilungarmi tanto, un fenomeno, un processo chiamato riconnessione magnetica. Comunque appunto, processo elettromagnetico. Ecco, in coda avviene un aumento della pressione magnetica, per cui c'è una compressione del campo magnetico in coda, finché si forma un punto neutro, si rompe e vengono lanciati due getti di plasma che contengono il plasma solare, sia verso l'esterno, oltre la coda magnetica, sia verso l'interno. E il vento solare entra, diciamo, in parte nella magnetosfera terrestre, in corrispondenza delle fasce di Van Allen e anche in corrispondenza delle cuspidi. Le cuspidi sono, vedete, queste linee di forza che vanno ai poli magnetici. E abbiamo poi le ripercussioni delle aurore boreali, delle zone polari, eccetera. Quindi diciamo che il vento solare comunque entra dentro il campo magnetico terrestre, da dietro, non dal davanti. Ecco, da dietro proprio dove si forma... ecco, guardiamo l'immagine successiva che ci spiega. Ma, scusami Giancarlo, anche qui entra, ma come forza, non dentro, a un certo punto, questo, diciamo, sono le linee del campo magnetico solare che si sono agganciate alle linee di forza del campo magnetico terrestre. E, diciamo, si addensano nei cosiddetti lobi magnetici che sono in coda. Questi lobi, queste due parti, lobo nord e lobo sud, sono pieni di queste linee di forza che sono, diciamo, del campo magnetico solare collegato al campo magnetico terrestre. Allora, questa si genera una pressione per cui c'è un collasso verso la mezzeria, diciamo così, del campo magnetico in questi lobi e si forma un punto di compressione massima chiamato punto zero e qui si rompe, si spacca questo campo magnetico e abbiamo che una parte del campo magnetico si sviluppa da destra verso sinistra e gira ancora verso destra. L'altra parte, invece, se ne va verso sinistra, qui c'è la rottura e va contro, diciamo, le fasce di Van Allen e va contro il nostro pianeta, diciamo così. Però siamo protetti, è chiaro che una parte entra, ma siamo protetti in maniera notevole dalle fasce di Van Allen, che ne ammortizzano, diciamo, assorbono, se così si può dire, questo flusso di protoni, questo plasma solare. Però non sempre le cose vanno così bene, perché quando ci sono le esplosioni solari, il campo magnetico terrestre subisce, diciamo, delle ripercussioni che possono essere pericolose per la troposfera terrestre e quindi arrivare alla superficie della Terra. Quindi qui non distrugge la vita come niente, però c'è sempre un equilibrio, diciamo, che più o meno si mantiene. Per fortuna, meno male. C'è da vedere, appunto, se anche nei pianeti extrasolari sono equipaggiati, se così si può dire, con strutture magnetiche di questo tipo. Secondo gli scienziati, sì, dovrebbe essere così, diciamo. Quindi noi siamo protetti da questa gabbia che però è costantemente in interazione con il Sole e gli umori del Sole hanno ripercussioni sulla stabilità del nostro campo magnetico. E come hai detto più volte, quando hai parlato, per esempio, del pianeta Marte, anche quello è un pianeta che sicuramente ha ospitato la vita. Sì, ma ha perso il campo magnetico. Perché ha perso il campo magnetico? Perché ha perso il campo magnetico. Sì, allora qui siamo... Allora, il nostro campo magnetico o geomagnetico, linee rosse, è vero? Ecco, che ha un polo magnetico nord, il polo magnetico sud, eccetera, viene prodotto dall'interno caldo del nostro pianeta, il nucleo del nostro pianeta. Il nucleo del nostro pianeta ha la parte interna che è solidificata, ma la parte esterna si trova allo stato di plasma liquido, quindi flusso di elettroni, protoni e quindi campi elettrici pazzeschi, elettromagnetismo e quindi campo magnetico. E poi fuoriesce verso diciamo così l'esterno. Se si raffredda, diventa... E luogo poi, appunto, a questa struttura che vediamo in rosso. Se si dovesse raffreddare... Il pianeta Marte è un pianeta che già 3,9 miliardi di anni fa, il suo nucleo interno si è solidificato, pianeta piccolo, non con le dimensioni della Terra, si è solidificato e solidificandosi ha perso il capo magnetico. E là, ahimè, il Sole ha fatto da padrone e gli ha soffiato via tutta l'atmosfera, facendo sparire qualsiasi forma di vita che nel frattempo si era evoluta su quel pianeta. Sono concetti molto interessanti che riaprono la mente, è vero, in maniera notevole. Allora anche qui c'è da dire siamo noi esseri umani responsabili della CO2 nell'atmosfera, dell'effetto serra, però dobbiamo anche vedere che cosa c'è all'esterno. Allora la CO2 viene prodotta dal vulcanismo, da un certo processo, che adesso non vado perché se no mi mettete in carcere, e viene prodotto dal vulcanismo in modo particolare da un ciclo chiamato ciclo del carbonato silicato. Ecco, i vulcani sparano fuori il CO2 che poi va nell'atmosfera, si mescola all'acqua delle nubi, si forma acido carbonico e poi lì c'è tutto un processo che viene poi riemessa nuovamente la CO2, ecco tagliando il corpo. Anche gli organismi viventi che vivono sui mari, la stessa funzione clorofiliana emette CO2, perché nel ciclo di vita delle piante loro assorbono CO2, acqua e poi l'energia solare. L'acqua e la CO2 si combinano a forma glucosio, che è uno zucchero, e poi viene rilasciato ossigeno e CO2. Ah no, perdono, scusate, CO2 viene estratta, la CO2 viene estratta per fare queste reazioni chimiche. Ecco, per esempio, l'ossigeno della Terra è stato prodotto dai microrganismi, dal fitoplancton, le cosiddette alghe azzurre, microalghe azzurre, o ciano, come si chiama, cianofite, una roba del genere, se lo ricordo bene. Quindi l'ossigeno è stato prodotto da queste microalche, chiamate cianobatteri, già a partire da quasi 4 miliardi di anni fa. Ecco, anche questo è una caratteristica, l'ossigeno negli altri pianeti, come sarà prodotto? La cosa è pazzesca, ci allarga in maniera, insomma, ci troviamo di fronte a fenomeni molto difficili da spiegare per adesso. Ecco, perché la tecnologia sta andando molto avanti, molto, molto, più c'è la robotica, l'intelligenza artificiale, insomma, c'è un sacco di roba che sta procedendo. Ecco, e noi andremo nello spazio, perché c'è, poi vi farò vedere la prossima, quelle, che cosa dicono gli scienziati, che noi potremmo essere il frutto di una colonizzazione astrale. E anche questa, io guardi, guarda, questa cosa qui mi suona, non lo so perché, mi suona bene. Ecco, perché ci... E noi potremmo diventare lo stesso. Facciamo così, ce la spiegherai, ce la spiegherai il prossimo mercoledì, esatto. Io direi, lascerei aperti, cioè direi a tutti, se c'è qualcuno che è interessato appunto a fare una domanda, di aprire tranquillamente il microfono e di intervenire. Tanto non siamo, non siamo tantissimi, quindi non credo che ci sovrapponiamo uni agli altri. Lasciamo qualche minuto così, vediamo se c'è qualche intervento. Insomma, comunque, comunque pensiamo che poi nell'universo, e noi stiamo parlando di una galassia, ma che cos'è una galassia di fronte all'universo? Niente, un punto infinitore. Certo. Non so se ci sono... Torna indietro, no, questa è nulla. Non so se Gianpaolo vuole intervenire, vedo il microfono aperto, è anche serenissima... Aspetta, qua chiudo. Ecco, vuoi vedere? Passa Galeria. Vediamo un po'. Gianpaolo, è il caso di aprire il microfono, se volete intervenire, perché adesso è chiuso. Ecco, una domanda veramente strumentale, chiedo scusa al relatore per la pochezza della domanda. La possibilità di rivedere registrate queste, perché devo ripensare un po' su a quello che ha detto il relatore. La possibilità di rivederle registrate, è su YouTube, sotto Unucci? Allora, sia su YouTube che sul sito Unucci. Io, diciamo, quella di settimana scorsa non l'ho ancora pubblicata, però quando salviamo la registrazione, più tardi, caricherò le due registrazioni. Quindi si potrà vederle su entrambi i due canali, insomma, ecco. Ok, grazie. Scusate. Prego, prego. Comunque, guarda, che anche quel fenomeno della lente gravitazionale, guarda, caspita, quel Albert Einstein, come ha fatto a dire certe cose, che stanno ancora, non fanno altro che confermare quello che lui aveva detto. Quindi ha delle intuizioni o comunque i studi che ha fatto. È insenzionale. Sono stati... La storia lì, guarda, è incredibile, porca miseria. Sì, ma poi anche le tecniche, quelle varie che vi ho elencato, ma metterle in pratica, io lo so come fanno, veramente. Ma qui siamo pieni di osservatori astronomici lungo le Ande del Cile, nelle Hawaii e anche da qualche altra parte, ma soprattutto le Ande del Cile, deserto di Atacama, vedono tutte le lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico. Anche essendo... E questi radiotelescopi, pensa che captano le molecole organiche nei dischi protoplanetari. Perché le molecole complesse non è che stanno lì tranquille. È bello. che portano intorno al proprio asse di simmetria e hanno delle variazioni nella loro rotazione, da più forte a meno forte. Quindi livelli di energia che calano e rilasciano energia sotto forma di onde elettromagnetiche, le microonde e l'infrarosso. Ed è per quello che adesso abbiamo telescopi infrarossi da tutte le parti. Certo. Perché bisogna guardare in quella... perché se io voglio vedere una stella, una protostella, nascosta diciamo in globulo di Bok, come viene chiamato, nel suo bozzolo all'interno, io non posso vedere la protostella guardando nel visibile. Certo. Non vedi. Non vedi. Se guardo in certe lunghezze d'onda dell'infrarosso, quella protostella emette radiazioni nell'infrarosso con una lunghezza d'onda specifica che passano attraverso la nube. E se tu sai che è quella lunghezza d'onda e la capti, vedi la protostella. James Webb Space Telescope avrà questo ruolo. Sì, sì. Certo. È incredibile. L'infrarosso e le microonde. Senti Giancarlo, ecco, bravo Flavio. Vedo che hai aperto il microfono. Fai tu... Sì, volevo fare una domanda, visto dopo tutta questa super spiegazione che effettivamente mi ha ubriacato. Ma secondo te, Giancarlo, ma quante terre ci sono? Bella domanda. Al momento. Al momento, Flavio, calma, eh. Visto dopo tutta questa spiegazione allora quante terre ci sono. Visto che andremo via da qui ci sono i robottini, ma quante ce ne sono? Ce ne sono abbastanza per ospitarci tutti. Dovremmo viaggiare nello spazio per sempre. Ma probabilmente lo farà l'intelligenza artificiale, appunto, eh. Poi bisogna vedere l'essere umano se può viaggiare nello spazio per sempre. Basta, la terra te la dimentichi, eh. Però, vedi, al di là di queste, diciamo, considerazioni, però la cosa è molto interessante perché a un certo punto noi andiamo nello spazio sempre di più, sempre di più. Perché andiamo nello spazio? Per quale motivo? Certo, per una maggiore conoscenza di come l'universo è strutturato, eccetera. Ma perché ci sono delle leggi che ci spingono a fare questo? Perché probabilmente noi diventeremo dei colonizzatori astrali. C'è in programma una riprogrammazione genetica dell'essere umano, per cui potrà vivere lui stesso per lunghissimi periodi nello spazio. E poi l'intelligenza artificiale, che probabilmente supererà di molti ordini di grandezza l'intelligenza dell'essere umano. E a quel punto lì l'essere umano è finito. Caponello, come dicono i tedeschi. La prossima volta vi relazionerò queste considerazioni dagli scienziati. Giancarlo, speriamo che questo succeda il più in là possibile perché, francamente, farei anche a meno di vedere questo momento. Certo, non si parla di decine di anni, ma di decinaia di anni. Purtroppo, se andiamo avanti così, le guerre nucleari. Guarda che sono gli scienziati stessi che lo dicono, che a un certo punto l'intelligenza, però ci mettono sempre un punto di domanda, che una civiltà tecnologicamente evoluta, si mantiene nel tempo lunghissimo. Le stelle nane rosse vivono cento miliardi di anni. Un'intelligenza esiste ancora? Che livelli può avere raggiunto? Un discorso molto interessante è proprio quello dell'età. Il nostro sole è una stella che ha, diciamo, cinque miliardi di anni. E ne deve vivere circa altri cinque miliardi. Quindi, però, nel frattempo... Ma ci sono queste stelle, tipo le nane rosse, che vivono per cento miliardi di anni. Allora, anche i pianeti vivono per cento miliardi di anni. E se c'è una civiltà tecnologicamente evoluta, ma a che livelli potrà arrivare, pazzeschi, però dicono che è molto probabile l'autodistruzione. Cioè, ci sono tutti i discorsi, che era mio, che ti sfuotono molto, perché non scherzano. Ecco, e questa età, l'età è molto e molto importante. Ecco, perché quando noi studiamo l'esterno, non è che troviamo stelle simili al sole con la stessa età, ma neanche per idea. Troviamo stelle simili al sole che magari hanno solo un milione di anni, o sono nate da poco, oppure sono molto più avanti. Allora, noi possiamo ricostruire l'evoluzione del nostro pianeta osservando l'esterno, l'età dell'esterno, che sono simili al sole. Certo. Quindi c'è tutto lo studio e si apre in maniera notevole. Interessante. Giancarlo, c'è un'altra domanda. Sì, sì, prego. C'è un'altra domanda. Intorno a Proxima Centauri, sono stati per caso localizzati dei pianeti? Sì, uno. Uno in particolare ve lo farò vedere. Siamo a quattro anni luce di distanza e questo pianeta della Proxima si trova esattamente nella zona abitabile della stella Nana Rossa. Quelle sì, la Nana Rossa. Perché qui noi ci troviamo di fronte, e vedi che qui come si allarga, ci troviamo di fronte non a una singola stella, ma a un tripletto di stelle. E sono legate tra di loro e ruota intorno al centro di massa delle tre stelle. Ma intorno alla Proxima c'è un pianeta. C'è un pianeta che ha caratteristiche terrestri. Ma cosa vuol dire caratteristiche terrestri? Che non è uguale alla Terra. È simile. E' un pianeta roccioso. Allora dicono che è terrestre. Sì. Infatti nel nostro Sistema Solare noi abbiamo, zona 1, i pianeti terrestri, di tipo terrestre, o che vengono chiamati in questo modo. Perché sono rocciosi. Ma non vuol dire che sono uguali alla Terra assolutamente. Allora intorno a questa Nana Rossa c'è questo pianeta. E guarda caso si trova nella zona abitabile, cioè la corretta distanza dalla Nana Rossa. Sì. E quindi può avere l'acqua liquida. Ma quella Nana Rossa è una peste. Perché continua a emettere delle esplosioni, dei super flare, che se c'è una forma di vita che lì può essersi sviluppata... In qualche modo? In qualche modo si viene completamente distrutta. Quindi c'è tutto anche questo discorso che rende sempre più peculiare il nostro. E poi guardate, ci sono stati quei due scienziati autorevoli che hanno detto, la Margherita Hatt si era arrabbiata, avevano detto il nostro pianeta nell'universo è l'unico che ospita una forma intelligente. Un momento, eh? Su che basi lo dite? Però vi farò vedere altre considerazioni che chi lo sa, perché ci sono tanti punti di vista che tendono a convergere, però adesso non voglio anticipare troppo di avere i dati. Va bene, dai. Allora Giancarlo, direi ci diamo appuntamento per quanto riguarda le conferenze di astrofisica a mercoledì della prossima settimana. Benissimo. Esattamente. Per questa sera direi... Sì, spero che tutti riescano a dormire. Questa no. Ma io mi prendo una pastiglia lì, sai, di quelle là. E vai a dormire. Sì, lì sì. Ecco, speriamo che tutti possano dormire tranquillamente. Direi che da domani in poi trovate appunto le registrazioni, sia della volta scorsa che di questa serata, su YouTube e sul sito Unucci. Per cui, niente, auguro a tutti una buona notte e ci aggiorniamo al prossimo mercoledì. Grazie, ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie.